Come è la presenza dei produttori? Il nostro territorio, dobbiamo dire, perché abbiamo 15 ospiti del Tantino quest'anno. Insomma, per una quantità di prodotti che ci sarà un'altissima qualità e anche quantità, come possiamo spiegare? Ma parliamo di 350-400 etichette che sono lì in degustazione e c'è sempre tanto da parlare e varie tematiche da vedere. Ci sono i produttori dalla Valle Venosta fino a Salorno, fino a Varna, per cui rappresentano anche tutto il territorio della zona. Possiamo invece fare una domanda su come è andata quest'annata? Insomma, abbiamo visto che a livello di produzione ci sono stati tanti risultati diversi anche in base ai prodotti. Una siccità che non ha aiutato ci può raccontare appunto come è andata? Ma quest'anno siamo partiti con un'estate molto molto secco, con delle temperature quasi da deserto, però le vite lo hanno preso abbastanza bene. Vuol dire che la vite è una pianta che assorbe abbastanza bene l'acqua e per cui ha sistemato abbastanza bene questa siccità. Dopo c'era l'autunno che per nostra fortuna era bello comunque e soprattutto dei rossi che sono stati vendemmiati un po' più tardi. Ci aspettiamo tanto. Cara Energia, quanto può influire sui costi di produzione per la prossima poi annata? Ma comunque quest'anno stiamo vedendo un po' questo rialzo dei costi, soprattutto dei costi fissi, dell'elettricità, però anche del vetro, di tutto l'imballaggio di una bottiglia di vino. Bisogna vedere un po' cosa ci porta all'inflazione. Comunque lato Adige è sempre in una situazione che vendiamo il vino alla clientela della ristorazione e anche alla clientela che ha fame per i nostri prodotti e dobbiamo solo lavorare sulla qualità e andare avanti.